da qui si percepisce meglio il problema di quell'avvallamento dopo i primi 50 metri proprio all'ingresso della pista del prato che sono molto livellati c'è questa questo avvallamento che tra l'altro è in discesa ed è possibile che proprio su quel dente ci sia ancora l'energia per per fare un rimbalzo che potrebbe risultare pericoloso perché in 50 metri non è che si smaltisca tantissimo